Bella raga, sono sempre Manu e siamo speciali del genere 78 video e 68 iscritti e vi voglio dire di non perdervi mai i miei video su Dragon Ball Fusion Dragon Ball Z Budokate Engage 3 e poi, dopo che avremo finito Dragon Ball Z Budokate Engage 3, inizieremo Budokate Engage 4 che sarà epico sto ancora... devo ancora scaricarlo sul computer, ma comunque lo scaricherò e poi lo faremo intanto avete già come Dragon Ball Z Budokate Engage 4, l'avrete già visto qualche youtuber tipo Ciccio Gay e tipo Blaskin68 e anche Joseph poi tanto alla fine quando lo finiremo questi giochi saranno becchi vabbè poi vi voglio dire ai signori che vorrei salutare in questo video che dovete scrivermi nei commenti che dovete scrivermi nei commenti che dovete scrivermi nei commenti se volete vedere qualche altra challenge insieme a me e mia madre lo potrei scrivermi quindi se noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao